La gestazione è stata lunga e per certi aspetti complessa e anche un po' contraddittoria, ma alla fine il decreto legge che definisce insieme alle modalità di conclusione dell'anno scolastico anche altre disposizioni per consentire un regolare avvio del prossimo anno è stato approvato. Le misure attese ci sono praticamente tutte, a partire da quelle sugli esami di Stato che riguardano quasi un milione di studenti degli ultimi anni della secondaria di primo e di secondo grado. Il governo ha previsto due possibilità, a seconda che si rientri a scuola prima o dopo il 18 maggio. Nel primo caso, rientro a scuola entro il 18 maggio, l'esame finale per licei tecnici e professionali si svolgerà con due prove scritte, una nazionale definita dal ministero e una seconda predisposta dalle singole commissioni, più una prova orale. Se invece si tornasse a scuola dopo il 18 maggio, l'esame si ridurrà ad una sola prova orale che potrebbe essere condotta anche a distanza. In entrambi i casi le commissioni d'esame saranno formate da docenti interni ad eccezione del presidente. L'esame di Stato di terza media sarà sostituito da una valutazione del consiglio di classe che dovrà però tenere conto anche di una tesina realizzata dallo studente. Questo se si rientrasse dopo il 18 maggio. In caso contrario, l'esame finale del primo ciclo potrebbe prevedere comunque una o due prove scritte e una orale. Tutto comunque dovrà essere stabilito mediante una apposita ordinanza ministeriale. Per le classi intermedie ci sarà lo scrutinio finale da svolgersi eventualmente in forma telematica, ma tutti gli alunni saranno ammessi alla classe successiva, salvo dover recuperare eventuali debiti all'inizio del prossimo anno scolastico. A proposito del 2020-21, il decreto stabilisce che con propria ordinanza il ministro potrà fissare la data di inizio delle lezioni in modo tale da consentire il recupero degli apprendimenti da parte degli studenti delle classi intermedie che al termine di quest'anno presentano lacune. Altre disposizioni importanti riguardano le graduatorie d'istituto che per ora non verranno aggiornate. La ministra ha spiegato che in questa fase gli uffici si troverebbero nella impossibilità di gestire un milione di domande. Via libera invece ai bandi di concorso. Una norma del decreto mette di fatto il CSP nella condizione di dover formulare il prescritto parere entro una settimana dalla data di entrata in vigore del decreto, anche se per la verità, almeno per ora, le prove concorsuali non si potranno concretamente svolgere. Anche per le adozioni dei libri di testo c'è una proroga. Per il 2020-21 restano infatti confermati i testi già adottati. E c'è infine la disposizione sulla didattica distanza che diventa a questo punto una possibile modalità di insegnamento-apprendimento a cui fare ricorso non solo in questo scorcio di anno scolastico ma anche in futuro, sia in situazioni di emergenza sia in condizioni normali. Ma va anche detto che la norma rischia di rimanere sulla carta a causa delle carenze strutturali e strumentali diffuse in tutto il paese. Proprio in questi giorni l'Istat ha evidenziato che almeno una famiglia su tre è priva di un PC, mentre è noto da tempo che ci sono aree del paese prive di adeguata copertura di rete. Con questo video noi ci fermiamo qui, ci prendiamo una pausa per il periodo pasquale. Il prossimo video sarà in programma per il 16 di aprile, giovedì 16 aprile, e intanto noi auguriamo a tutti voi e alle vostre famiglie una serena Pasqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.